Bene Stefano, siamo con Stefano Zampoli, la muraglia trissinese, stasera abbiamo tessuto le lodi, una prestazione, però Valdagno vi ha messo abbastanza in difficoltà. Penso che abbiamo giocato un ottimo primo tempo, fino a 5 minuti alla fine stavamo dominando, poi alcune disattenzioni abbiamo fatto rimettere in partita il Valdagno, però devo fare i complimenti perché ha giocato veramente un'ottima partita e penso sia stato un bello spettacolo, un palazzetto pieno così. E' sempre bello giocare. L'ho sostenuto anche in telecronica, entrambe le curve piene e sicuramente è uno spettacolo che valeva la pena anche per il pubblico, un pubblico valdagnese che si è ritrovato un po' anche con la squadra oggi. Io penso di sì, proprio sì, perché stasera la cornice di pubblico era veramente incredibile, la curva del Valdagno era strapiena e anche da Trissino c'era veramente tanta gente e questo fa altro che bene al nostro sport. Grazie Stefano, un Trissino che rimane a punteggio pieno per me era sempre il solito ragazzino, ciao, grazie.